Benvenuti a tutti, oggi parleremo di TypeScript. L'argomento di questo video sarà Satisfice. Come possiamo utilizzarlo e qual è la differenza nell'utilizzo rispetto a quella che è la Variable Annotation. Per dirla in maniera un pochino più semplice, la Variable Annotation altro non è che questo tipo di definizione, che noi andiamo appunto a utilizzare quando vogliamo descrivere come sia strutturato il nostro oggetto e qual è appunto la differenza rispetto a Satisfice e quando utilizzarlo. Noi quando andiamo appunto a dare questa definizione al nostro oggetto, stiamo definendo appunto che sarà un oggetto che vorremmo andare ad estendere, perché in questo momento, come vedete, è vuoto, nonostante sia vuoto, però la condizione viene soddisfatta perché il nostro linter non sta piangendo, comunque non ci sta avvisando che qualcosa non sta funzionando, e noi andiamo appunto a dare questa definizione in cui diciamo che abbiamo una struttura che è tendenzialmente un oggetto che avrà le sue chiavi che saranno composte da stringhe e i suoi valori che saranno composte da stringhe. Se io appunto qua scrivessi value e gli assegnassi quello che è il valore di trend, ecco che avrei un errore, perché ho segnalato che questa deve essere una stringa. Un qualcosa che dobbiamo notare, infatti, è che noi possiamo andare ad estendere il nostro oggetto in questa maniera, quindi io poi dopo successivamente posso andare a dichiarare quelle che sono altre proprietà, altre chiavi sul mio oggetto, quindi qui posso assegnare quello che è il valore di name ed age, sempre appunto che rimaniamo nello spettro del type che abbiamo indicato. Ora qua, assegnando quello che è un numero, ci dice che stiamo sbagliando qualcosa. Se io invece al posto di questa dichiarazione andassi a eliminare appunto quella che è la definizione del mio oggetto in questa maniera e assegnassi satisfies e gli vado a passare, facciamo che ce la copiamo e non ce la cancelliamo, ce la andiamo a copiare, diamo appunto satisfies e poi gli assegniamo quello che è il mio oggetto, ecco che io non ho un errore in questo punto, ma successivamente invece mi trovo con quella che è la segnalazione, che qualcosa non stia funzionando. Questo perché? Perché satisfies, diciamo che si va un po' a sopperire quella che è questo tipo di definizione, perché noi non possiamo andare a dire qua in questa maniera che questo sarà un oggetto composto con questo tipo di definizione, mentre satisfies ci permette di andare a fare questo tipo di definizione. Quello che però va a fare satisfies si assicura che l'oggetto appunto che io vado a definire vada a descrivere in maniera stretta quello che è il type che gli assegno. Ci viene molto più comodo appunto andarlo a vedere su quello che è l'esempio che abbiamo sotto. Sotto abbiamo appunto definito quello che è il nostro oggetto config, abbiamo detto che ha un type che è esattamente lo stesso che vediamo sopra, nella parte sottostante, e poi andiamo ad assegnare le sue, diciamo che soddisfa questa condizione. Qual è la differenza sostanziale? Beh, che se adesso io andassi su quello che è appunto config, se io premessi su appunto, cercassi di accedere a quelli che sono le chiavi di questo oggetto, io mi trovo istantaneamente con quella che è innanzitutto l'autocomplete, che in questo caso comunque, nonostante qua io vada ad aggiustare quello che è la definizione che ho dato del mio oggetto user, vado a riproporre quella corretta. Se io qua cercassi di avere un autocomplete, ecco che non ho l'autocomplete, non ho niente, perché lui sa che genericamente sarà un oggetto che sarà composto con questa struttura, ma hanno un'idea di quale proprietà avrà al suo interno. A differenza invece del mio oggetto config, in cui avrò sì l'autocomplete, ma inoltre avrò anche la definizione di quello che è il type. Come vedete io qua ho la definizione che sarà sicuramente un number. Stessa cosa appunto vale per quello che è il parametro di secret, ma se provassi ad estenderlo, quindi dire che config.test è uguale a 1, ecco che ottengo un errore, perché non sta più soddisfacendo quelle che sono appunto le caratteristiche che ho descritto che avrebbe avuto questo oggetto. Quindi per fare un breve riassunto, questo ci permette, quando definiamo appunto questo tipo di scrittura, di andare ad avere un oggetto che sarà estensibile, quindi quando vogliamo lavorare in direzione di estendere i nostri oggetti. Mentre quando utilizziamo appunto satisfies andiamo a restringere sia il campo dell'oggetto rispetto alle proprietà che possiamo assegnare al nostro oggetto, sia soprattutto ad avere anche una definizione più stretta di quelli che sono anche i valori che assumeranno questi oggetti. Noi sapremo che expires in sarà un number. Se io qua andassi ad assegnare, invece che appunto avere satisfies di config, ma assegnassi quello che è esconfig, ecco che in questo caso ottengo che expires in potrebbe essere una stringa e un numero, mentre quando utilizzo satisfies vado ad avere la garanzia che esso sarà appunto un numero. Questo mi semplifica di molto appunto anche in tutta la gestione delle casistiche in cui devo controllare che sia un numero prima di svolgere alcune operazioni piuttosto che delle stringhe.